È stato uno degli artisti più famosi del Novecento e tutti o quasi tutti amano la sua opera, ci sembra facile, familiare, eppure nasconde un pensiero complesso e profumo. Chi era davvero concreto? Lo conoscevamo veramente. Perché scriveva Io sono inafferrabile in questo mondo? E che cosa significa quando dice La mia casa arde presso i morti e i non ancora nati? Ecco, con questo libro, edito dalla Terza, io cerco di indagare il mistero di una vita, di un'opera, che è molto più profonda di quel che appare. L'ho titolato Paul Klee, Genio e Regolatezza, perché ha saputo coniugare una strepitosa, debordante vena creativa, pensate a realizzare 10.000 opere, con un metodo di lavoro regolare, ferre, avvolto in un'apparente normalità. Non aveva nulla di quel narcisismo gotico, di quell'aria da maledetto, da dannato, che ha contraddistinto tanti suoi colleghi. Con questa biografia artistica, io ho cercato di spiegare perché e come Paul Klee è diventato Paul Klee. Da quei giorni magici di Tunisi, in cui dice di se stesso, ecco, io e il colore siamo tutt'uno, ai giorni finali, quando esiliato a Berna, in fuga dai nazisti, si scopre malato in compagnia degli angeli.